Spiedini di carne marinati con lo zenzero, salsa porcestra e tanto tanto limone, quanto sono buoni! La prima cosa è la carne, tagliate i pezzettini di carne, metteteli in immersione nell'acqua, così col cavolo che si brucia no? Infidiamo la carne, tutta allo stesso verso, mangiare spiedini? Guarda quanto sono belli, bravissimo così! Pulitelo col cucchiaio, è buonissimo sulla carne! Ora mariniamo limone e zenzero, sale, pepe, olio, la salsa porcestra e sulla carne è stata paura! Mmm! Adesso fatevi insaporire bene bene! Barbecue bello caldo, almeno 250-300 gradi! Mamma mia ragazzi! Non so bruciare la salsa porcestra! Guardate le montagne spiedini Mario! Ti do quello più buono eh! Sei pronto? Da paura ragazzi!